Sfonda quella porta! Che ci fai qui? Ti tiro fuori Ecco, mettiti questo e ti servirà Potresti metterti nei guai con questa mossa? Non più, le cose sono cambiate Meglio andare E gli altri prigionieri? Non possiamo lasciarli qui Se ne sono andati, Hoffman ha graziato tutti Ah, davvero? Bentornato nell'esercito Merda Andiamo Abbiamo due opzioni Tornare indietro passando per i dormitori È più lunga ma più sicura Oppure attraversare le prigioni e buttarci in battaglia A te la scelta Passiamo per i dormitori Devo risolvere un problemino Mi sta bene Ti seguo 6-4, qui Delta 2 Siamo in marcia, passo Ricevuto, iniziamo la corsa 6-4, in posizione Fox 1, Fox 1 6-4, qui Delta 2 Non sparate Siamo dentro la prigione Passo Ricevuto Non sparate Riposizionatevi subito Se il comando scopre che sono qui per te Sono nella merda Forza, andiamo Premi il pulsante per aprire la porta Ancora uno D'accordo Volevi risolvere qualche problema? Questo è il posto giusto Bene E cosa ci fanno questi qui? La squadra, Victor Sta pulendo il settore Serviranno più elicotteri Unità di terra sotto fuoco pesante Ci sono nemici Ci dappertutto Ricevuto Chiedo rinforzi Passo È una porta di sicurezza a tempo Spingi il pulsante e corri Bene Che diavolo è successo in questa prigione? Meglio che tu non lo sappia Marcos, prendi le granate Abbiamo un'altra porta di sicurezza a tempo E' una porta di sicurezza a tempo Ricevuto, stiamo pulendo l'aria per il recupero. Marcus, stanno sfondando la porta! La riparo! Preparati, arrivano! Granata! E in piedi! Usciamo da qui! Delta 1, qui Delta 2. Pronti al recupero? Passo! Ricevuto! Unità nemiche! Lì, lì! Passo! Li vedo! Arriviamo! Arco, fianco, d'inito! Altri due a destra! Potete coprire? Passo! Negativo! Possiamo coprire un solo obiettivo! Ci servono i quarti! Passo! Andiamo! Negativo! Negativo! Siamo sotto fuoco pesante! Restate in attesa! Granata! E' qui! Ora! 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 Oh, merda! Qui 6-1! Ti hanno colpito! I comandi North! Bene! 6-1 è a terra! Ripeto, 6-1 è a terra! Attenzione! Missione interrotta! Ripeto! Missione interrotta! Stiamo recuperando la squadra Delta! Delta! Qualcosa si muove sottoterra! Passo! Lo vedo anch'io! Cosa stiamo cercando? Che cavolo ne so! Marcus, dobbiamo andare a Raven! Subito! Via! 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 E' venuto nella squadra death. Dove stiamo andando? Embry Square. Il colonnello Hoffman ci aspetta. Hoffman? Oh, merda. Ci sarà da divertirsi. Ehi, tu sei quel Marcus Fenix? Quello che ha combattuto Nassio Fields? Eh, già. Wow, un figo! Mica tanto. Tu, un traditore come te, non merita di indossare l'uniforme. A me sembra che vi serve ogni aiuto possibile. Levati di mezzo. Tenente, buone notizie. Abbiamo un piano per porre fine a questa guerra, una volta per tutte. Sì, come no. I sensori rilevano movimenti nemici, signore. Sono vicini. Locusti! Al riparo! Muoverci! Merda! Abbiamo la bomba solare. Eliminerò tutti quei bastardi in un colpo solo. Non funzionerà. Non abbiamo le coordinate del bersaglio. Per questo ci serve il risonatore. Creerà una mappa dei tunnel. Così potremo eliminare quei vermi proprio dove vivono. Ora mi incazzo! Lassù! Abbiamo perso il contatto con la squadra Alfa. L'ultima trasmissione veniva da Every Square. Dovete andare là, trovare quegli uomini e piazzare il risonatore. Avremo un supporto aereo? Cosa? Stai scherzando? Siete voi il supporto, figliolo. Restano due. I Nemesis stanno intracciando il supporto aereo. Dovrete vedervela da soli. Siamo fattuti. Tutto ok! Il tenente vi comunicherà le informazioni necessarie. Sì, signore. Ora la cosa migliore sarebbe andarsene. Tu vedi di farlo. Da te mi aspetto il 110%, Felix. Non lo sto facendo per te. Riparci i nemici! A riparo! Basta la offre la casa. Buona fortuna, Delta. Su per le scale. I Alfa aspettano. Ok, amico, andiamo. Sei pronto? Mi sa che lo scopriremo, giusto? Massacra! Sugga! Granata! Prendete con le piastrine, famigliere borrano viene. Persa! Vermi! Vemm... Macos! I fianchi! Macos, fianco sinistro! Ho preso uno! Guardate le sottoterre! Ah, sannazione! Sottoterre! Vai! Pronto a combattere? Avante! Controllo, qui Delta. Abbiamo una visuale sugli Alpha. Forse sono morti. Nessun segno del risonatore. Ricevuto, Delta. Continuate a cercare. Io apro la porta. Ho il codice. Umano. Sottoterre! 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 Non lo vedo! Ricarica. Non lo vedo! Non lo vedo! Il prossimo! Bene! Come on! Spero che quello non sia Rojas. Suo figlio ha appena due anni. Beh, forse sono gli Alfa. Non ci sono piastrine. Quello è il risonatore? E adesso? Prendiamo il risonatore. Marcos. Che ne pensi? Che ne penso? Forse sono gli Alfa. Oppure le Locuste che ci tendono una trappola. C'è solo un modo per scoprirlo. Dentro la dimora dei sovrani. Prossimo obiettivo la dimora dei sovrani. Sempre dritti. Muoversi. Rika! Arco, spianco destro! Arco, spianco destro! Perfetto! VAT DI TERRA Cos'è questa stretta? Beh, forse sono gli Alpha. Non ci sono piastrine. VAT DI TERRA 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 Un'altra bocca di verbi! Purtanti con una granata! Ho preso uno! Un'altra bocca di verbi! 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 Avanti! Un'altra bocca di verbi! 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 Controllo, qui in squadra Delta. Notizie degli Alpha. Negativo, Delta. Nessuna comunicazione radio, passo. Ricevuto. Dom, Phoenix, cercate una via d'accesso. Carmine e io vi copriamo le spalle. E gli Alpha? Vi salviamo se possiamo. Andiamo. Tutto ok. Hai visto. Via, via, via. Ruoviti, soldato. Muori, muori, muori. E' una buca di verbi. Entrate e pigliate i cacchillino. Mi copriamo. Va bene. E' una buca di verbi. Tutto ok. S'è ratta le fila! Muoviti, soldato! State bene? Sì, però ho un problema. Questa cosa funziona male. Si inceppa sempre! Visto! Cecchino! Prendere posizione! Rimparsi di lo booster! A riparo! Visto! 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 C'è qua? C'è il balanzi! Ricarica! Mi servirebbe aiuto! Sei a posto! Controllo! Qui Delta! Rispondete! Bene! Equipaggiamento militare! Funziona sempre! Carmine! Lo so! Io apro la porta! Ho il codice! Credo che abbiamo trovato gli Alpha! Muoversi! Ce l'hai per tutti! Qualcuno si sta divertendo lassù! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!